Starburst 2016 Contest Junior Matteo, hai vinto per quanto riguarda il tuo istituto, l'istituto Carnacina come primo premio di questo cocktail 2016 analcolico Emozioni, sensazioni di oggi? Beh, una bella emozione, molto agitato durante il contest però devo dire che è proprio una bella emozione e sempre una soddisfazione Abbiamo visto proprio le mani che tremavano in fase di preparazione quindi le emozioni che anche trasparano su quello che è proprio il vostro quello che sarà il vostro futuro, il vostro lavoro quindi futuro da barman? Certamente, è un sogno che voglio realizzare perché è un lavoro che secondo me può dare molti spunti anche essendo vivendo sul lago di Garda e spero un giorno di poter realizzare questo sogno di barman Ultima cosa, un messaggio per i giovani Noi oggi stiamo spingendo quel messaggio di Starburst il bere responsabile ma soprattutto il se bevi non guidi Un messaggio che vuoi dare ai ragazzi tuoi coltane? Che nell'ultimo periodo sono successi molti casi di ragazzi giovani nella mia età che purtroppo sono morti è una cosa che addolora molto e una cosa come facciamo io e la mia compagnia che quando facciamo le serate e solitamente non usiamo mai la macchina ma uscendo tutti assieme un bel taxi così non ci sono pericoli e ritorniamo a casa sani e salvi diciamo Bravo Matteo, ottimo messaggio Grazie per essere stato con noi Grazie